invito a salire sul palco il regista emiliano selmani come mai decide di smettere hai girato un corto magnifico si termina dalla sceneggiatura di un lungo la storia tratta delle tematiche universali non avere nessuno con cui scrivere è come masturbarsi invece di fare sesso la creazione artistica dov'è il produttore a bologna stanno girando un film e lui sul set la struttura si mangia lato creativo costruire una grande squadra il cinema è un lavoro di squadra ricordatelo credi di poter guidare questa truppa fino alla beta ti sei chiesto cosa puoi fare veramente con una telecamera cosa succede andrea andrea emilia cosa succede il limite dov'è il limite ecco te Odite